Lo scarico per Tamara Slay appostato sui 6.75 ma rimbalzo offensivo per Kiki Clark Ricomincia una nuova azione d'attacco per l'Umana Veneta Slay ancora per Clark La penetrazione, c'è lo spazio, va fino in fondo il canestro di Kiki Clark Allora le ultime chiamate di coach Mazzon sono state tutte per procurare dei pick and roll Tempismo, attenzione a Bicinovic, fronte canestro da tre punti l'errore L'apertura di Rosselli per Clark Clark passa la metà campo, prova a anticipare i tempi e il canestro subito immediato di Kiki Clark Ottima giocata della Reier, questa è una situazione tattica che può mettere in difficoltà Treviso Ottima azione difensiva Effettivamente Young, anche le braccia ben aperte, non stava ostacolando in maniera irregolare In ogni caso contropiede Reier con Clark a segno Questi sono canestri importantissimi in partita come questa Recupero difensivo e canestro in contropiede primario Questo canestro comunque è nato dalla penetrazione di Bulleri Che ha trovato centralmente la difesa della Reier sguarnita sul pick and roll Ha penetrato procurando la rotazione della Reier Poi brava Treviso con due passaggi consecutivi a trovare l'uomo libero Clark si alza da tre punti e il canestro di Clark Il canestro da campione in un momento davvero difficile Sia il canestro di Tamas lei di prima e questo di Chichi Il canestro in suo momento chiave della partita